Ennesima tragedia sul lavoro in provincia di Lucca, a perdere la vita a Pieve San Lorenzo sul versante lunigiano del territorio di Minuciano, è stato Loriano Martini di 68 anni, titolare di un mulino per la macinatura delle castagne e di uno spaccio di frutta e verdura del territorio. L'uomo ha perso la vita schiacciato dal muletto che stava manovrando e che probabilmente, nell'affrontare la rampa di uscita dell'azienda agricola, si è ribaltato sulla sede stradale travolgendolo. Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei numerosi testimoni che hanno assistito alla scena, ma i sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per soccorrere l'uomo era stato allertato anche l'elicottero Pegaso 3, il cui intervento, purtroppo, è stato inutile. Sul posto, insieme al 118 e ai vigili del fuoco, anche gli operatori del Dipartimento della Prevenzione che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro e che si occuperanno di stabilire l'esatta dinamica della tragedia, insieme ai carabinieri della stazione di Gramolazzo, comandati dal maresciallo Lucchesi.